il mistero e il segretario dietro l'hypnosis non verbale e il mesmerismo, risultati delle mie ricerche, per voi, per il vostro sviluppo personale, per la tua vita e per diventare un professionista con i risultati più alti. Grazie per la visione! 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 Vi invito a fare due cose! 1. Seguite i nostri campi online. 2. Subscribe al nostro canale, perché ciò che mettiamo nel nostro video è unico e non lo potete trovare in altri posti. Questi sono le mie ricerche, i miei risultati e non lo potete trovare. Grazie per la visione!